bene ciao a tutti ecco siamo arrivati all'ultima parte di questo video tutorial come potete vedere il casco adesso ha cambiato colore il trasparente è stato dato abbiamo tolto la carta protettiva all'interno e all'esterno ora non ci rimane che dare che lucidare il trasparente con del polish e un panno per lucidatura il polish renderà il trasparente ancora più lucido con un bell'effetto di finitura in modo da consegnare al cliente un prodotto professionalmente eccellente poi rimuoviamo il polish con la parte pulita del panno ed ecco qui io vi ringrazio per aver guardato questo video tutorial se avete domande o commenti iscrivetevi pure io rispondo a tutti e adesso siamo pronti per andare a sciare no direi che non è decisamente la mia taglia questo casco ciao al prossimo video tutorial su lucky art